Le relazioni fra Abruzzo e Russia nel corso degli anni si stanno intensificando sempre più, con le piccole e medie aziende regionali che guardano al mercato dell'Est come uno sbocco fondamentale per aumentare produzione e fatturato. Una delegazione di investitori russi nei giorni scorsi ha fatto visita alla zona industriale ed artigianale dell'area vestina, con un occhio particolare alle eccellenze locali, nella fornitura di prodotti professionali per la ristorazione. La delegazione di un'importante catena di grande distribuzione della Russia, su iniziativa di Roberto Pasquali, ha soggiornato per due giorni a Loreto a Prutino, dove, oltre ai macchinari d'avanguardia per la ristorazione, ha potuto assaporare anche le eccellenze no gastronomiche abruzzesi. Tra queste l'olio, prodotto di punta dell'area vestina, il sindaco di Loreto a Prutino sottolinea l'importanza di questi scambi culturali e commerciali con l'estero. A breve a Loreto è atteso anche l'ambasciatore di Russia. Prima di tutto è la promozione del territorio, ma soprattutto dobbiamo guardare al mercato russo, che è un mercato immenso, e soprattutto noi, con le nostre eccellenze, poter entrare, anche se anche in realtà di Loreto già sono nel mercato russo, ma incrementare e rafforzare queste relazioni commerciali che esistono. Le relazioni commerciali che possono anche, e speriamo che si possa, con l'aeroporto, collegare un collegamento diretto con la regione russa, anche un'occasione per accogliere i turisti.